buongiorno a tutti i bambini oggi conosceremo una nuova macchina che si chiamerà la tesla la tesla è una macchina elettrica e costa molto molto ma proprio molto 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 adesso ve la faccio presentare vi devo solo dire una cosa questa tesla ha lumino dentro come vedete guardate però adesso c'è una piccola pausa guardate com'è bello questo scenario da mettere per questa macchina con tutti questi segnali ma non perdiamo tempo andiamo a conoscerla qui è di dietro guardate quanto è bello di dietro questa si chiama la tesla roadster però guardate è di color di un bello che come si chiama questo maroncino bu non lo so un maroncino un po più scuro che è uscita da oggi vediamo un po se c'è scritto tesla road si ed è pure fatta dalla hotwix ma se volete vedere la pista di hotwix te la faccio te la facciamo vedere e facciamo sfrecciare qualche macchinetta ok pronti per buttare questa macchinina mira perfetta ops forse scusate bel lancio bel lancio da atleti wow pronti via mamma mia ma questo è un salto proprio bellissimo ma proprio molto ma molto ma molto bello wow è andato in mezzo al mappamondo ora la vado a riprendere ragazzi se vi è piaciuta la mia pista e vi è piaciuta la tesla metteteci like e iscrivetevi al canale ciao